Anello adattatore per montare obiettivi Leica R su Canon EOS. Vediamo come montare e smontare questo anello. Qui abbiamo uno splendido Leica 180 F4. Vediamo come montare l'anello. Questa è la versione con il microchip. Esiste anche la versione senza microchip. Qui abbiamo una levettina che si può schiacciare per togliere poi l'obiettivo col pallino rosso. Facciamo combaciare questo pallino rosso col pallino rosso dell'obiettivo. Schiacciamo con forza e giriamo in senso orario l'anello finché fa il click. Il perno è andato a finire nella fessura dell'obiettivo. Per smontare l'anello basterà con una mano spingere, con un dito della mano sinistra che faccio io, spingere la levettina verso l'esterno e poi ritornare indietro in senso anti-orario. Fino a tornare al pallino rosso. Muovendolo un po' si toglie. Bisogna fare attenzione perché con le ultime Canon EOS il microchip potrebbe non comunicare con la macchina o addirittura dare errore. In questi casi dalla Canon 5D Mark III in poi e le ultime Canon amatoriali degli ultimi 2-3 anni il chip potrebbe non comunicare. Basterà con un pezzettino di nastro isolante coprire i contatti dell'anello e utilizzare l'anello come se niente fosse, tanto la fotocamera non lo vede più. L'alluminio è in alluminio, vedete, l'obiettivo se ne va. Alluminio anodizzato da una parte, comunque interamente in metallo. Molto ben fatto.